Musica 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 Ok, noi stiamo con Lennox Maurres Director tecnico di Equipo di Gio Holland La Torre è stata una parte importante La Torre è stata una parte importante E' una victoria Per essere qui classificata Per la finale di Gio Holland Lennox, come ti senti nel momento? Mi senti molto bene Mi senti molto bene E' la cosa che è passata Non ci mangiare per perdere 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 Quindi non ci mangiare per perdere E' quindi Non ci mangiare per me Non ci mangiare per perdere Non ci mangiare per perdere E' un punto di tog E' un punto di tog E' un punto di tog Per un dono E' quindi facendo lo che non si viene passato. Si, ma nera bobbisa, John Holland ha fatto un empate, però Bosnano non ha un empate, sino che Bosnano è un empate, buscando la victoria. Se è il risultato di un empate, va a clasificare. Si, mi ricordo è molto conosciuto, non sono un valore, mi ricordo è un empate, mi ricordo è un gana, la mentalità è sempre un gana. Non si viene un gado, non si viene un gado, non si viene un gado, ma non si viene un gado. E ho un ente, mi ricordo è un empate, mi ricordo è un empate, non si viene un gado, ma non si viene un gado. Ma si è un gado di trempare, si è un vento di 1-0, un tiro libero per Sebastiano Londoño? Si, sì, Sebastiano è un gran gado, un gran pilo. Non si viene un gado, non si viene un gado, non si viene un gado di fare, un attrazione al futebol, ma ci viene un gado di 200, ma ci viene un gado di 60-70% che ci viene un gado di 30. E quindi è la ciave. Quindi, quando mi ricordo è parte di domenica, ho trovato di un tipo di festa, e ho trovato di fiesta e ho trovato di tutti. la prima volta in una posizione e in un'espausso e quindi la finale si, mi piace, mi piace la prima cosa mi piace, per me sempre sono in una posizione e poi ci sono i nattici e noi sono il numero 2 noi sono i 36 e noi siamo in una posizione per futtolico show i due primi non mi ricevai finali e non si non si vai spero un gran partito adesso quando ti arrivi al final e sa che ti vedi i holland su di 8 final e era moderno che sentimento non dà? ho cominciato 4 anni passati ho cominciato 4 anni passati e lo che ti passa è che non mi non poto entrare in un'equipo, sempre mi ti tengo hociato 6 anni passati hanno otto si deve studiare e ci sono sempre problemi di holland ora non si andate a far fai ma anche si è qualcosa che ci sia e non si che ci sanno e non si non si ne ci sanno e non si finisce e in un'equipo holland sono un grande un grande progetto e non si andate a un'equipo ma ho arrivato un momento quando ci sono 8 anni oi non ci sono studiando in America, in Ulanda quindi ho sempre avuto un problema con i cilindri e ho sempre avuto un problema e ho sempre avuto a comprare i cilindri i cilindri che non mi senti molto a comprare i cilindri e che vedono molto a farlo di una vita quindi ho sempre avuto a comprare i cilindri e ci siamo ancora iniziato per sempre quindi non significa che non ci siamo arrivati a comprare i cilindri non sono una biazza perché c'è un principio di questo come vi ho detto che Stanley ha detto questo perché mi piace molto e mi piace molto perché quando si è 16-17 anni c'è qualcosa di un'unica c'è una confianza non c'è anche il fútbol ma c'è anche il fútbol c'è una confianza non c'è anche il grado non c'è una confianza non c'è un'unica ma c'è un'unica con i gruppi con i gruppi non ci sono è che ci sono anche i suoi sono una cosa si no, non c'è un'unica e per quanto che riesco non c'è qualcosa l'aura di un'unica di un'unica che gli anni sono due a un'unica attenzione ci sono non ci sono mai in un sacco di carri. Voi, in un'altra cosa? E' un'altra cosa. Inoltre tutti i due 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 ragazzi. E se non c'è sicuro, non c'è un'altra cosa. Inoltre in un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Sì, è stato un buon gioco di domingo. il deporte locale. Qui conosciamo il direttore tecnico di Vesta, con il Henry Caldera. Qui avevano il suo equippo di Vesta e un contro l'equipo di Jon Holland. Praticamente claccava nel finale, ma avevano una derrota di due contro l'equipo di Jon Holland. Che vuoi pensare del partito, Henry? Il nostro primo luogo è che era un contro l'equipo di Jon Holland, ma è un partito che abbiamo già che avevano una bala. Non ho cominciato con il nostro mio plantello, avevano 5 minuti che avevano sossegato per motivare, avevano un basico, che avevano la metà del team. Non avevano la notte, però non avevano la vita, non avevano la notte. Non avevano la notte, non avevano la notte. Quando arriva il finale, avevano la notte, avevano la notte, avevano la notte, avevano la comunicazione del giro, con la defensa, con la prima volta, e avevano il primo gol, con la barriera, avevano un bel gol. E' un portero che non lo sapevo in fase. E' un po' di distanze, ma non avevano la notte. Ma non avevano la notte. E' un po' di gustavo! Un po' di gustavo! E' un po' di gustavo! Non sono sincero, un po' di gustavo. E' un po' di gustavo! E' un po' di gustavo! non è sicuro sei se vuoi pressione ora voglio di 6, 4, eccetera è pressione ma saldo e cosa è falso di ritmo è qualcosa di logica non è un po' colpe non è una cosa non è un po' colpe ma è un po' colpe ma è comprendibile come è falso di ritmo però non si c'è tratti, non si c'è la lucha non si è un po' di grossa non è di due tempo sicuro è territorio di Yola non si è vivi non si ci siamo ma 4, 5, un... 20, 20, 19 molto contento con la vorra concessione è un po' grande si, si è un po' aladattante è stata fatta a questo tipo è un po' di trattamento ma è un po' di trattamento però un po' di trattamento non ho bisogno di questa non ho bisogno di una canzone non ho bisogno di quella ma bisogno di un po' più questo è un po' di massaggio è un materiale un materiale è un po' di lungomitrage allora ci voglio e ora insomma di un che è da tramecero quando tratta, non mi ha detto che il futuro del primitivo è il Vesta. Eri, maniera, come se mi chiede a Vesta per la prima viata in finale, che expectativa non dà? Buongiorno a tutti. onze settima non vogliamo che non sia in tempo dove c'erano un gruppo sera in dosi anni non sia al final, non essere badass, ma non sia che sia pieno di tempo come un'acqua ha bisogno automatico in potuto mm per anzio èalyse di un mondo, di un structure live però nonodamente sia da cadcia quattro non tratta, non coro, ne? Io ho da 6 anni, poi io ho da 6 anni oltre anni, per essere 7 anni. Non so quello che è qui, io ho da 6 anni oltre anni, troppo. Seguro, vale la pena, vale la pena se bo po coro, Entere, ai? Passando del momento, non cammino, praticamente entere, è ruta, possiamo correre un cuo due. Non vale la pena, va por coro, segura, è la finale qui, virando campion. Sì, sicuro, ma abbiamo visto che era merecidamente, 2 team a cana, 1-2 intertemporada, la prima volta di 2, KS6, 4-4, è verificato, nel finale, in quattro settemane, in quattro settemane, non c'è più fuori la settimana, sicuro. e e e e è e e e Grazie a tutti.